Musica Eeeh... 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 Pessoa su YouTube è vero... Eeeh... Non è vero te, ovvio... Eeeh... Pessoa se verem... Eeeh... Eu achei que nós... Nós vimos que vocês também fazem esses velhocos... Eeeh... 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 Como tu tá... Peeeeeeeh... Tu madre... Eeeh... 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 Oh... Eeeh... 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 ENS. Eeeh... Questa è una spada gay di lima. E io sto a morire con questa spada. Fastiga. Questo non ha nulla. Qual? A lua? Ah, maia lua. Ah, maia lua. Questa è una spada gay. Questa è una spada gay di lima. Questa è una spada gay di lima. È divertito. Chora. Questa è una spada gay di lima. Questa è una spada forno. Questa è una spada. Yungu Shungu Pum Deve essere un'opzione, assieme non è stato mica l'idea perché davvero Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.